Il Casorias Bunker campo del Circomo è una partita molto difficile, 3-0, 1-0 nel primo tempo, poi due reti nella ripresa per chiudere una contesa che si era fatta anche difficile. Sì, siamo davvero felicissimi perché onestamente ritengo questa squadra del Rione Traiano una realtà molto solida, una squadra unita che gioca da anni insieme e quindi è inutile negarlo ero preoccupato, però la nostra squadra ha dimostrato di avere carattere, ha dimostrato di avere le palle, una squadra unita, un gruppo di amici e quindi siamo felicissimi per questa vittoria, questa vittoria rotonda 0-3 che poteva essere ancora più grande. Siamo partiti bene, però non siamo riusciti a trovare il gol, poi la partita si è un po' incattivita, Ruffo ha trovato la rete che ha sbloccato il match, poi nella ripresa siamo stati bravi proprio a contenere anche una loro reazione e poi a chiuderla definitivamente. Sì, siamo stati maturi, siamo stati cattivi anche perché loro sono stati corretti, però nello stesso tempo sono stati molto, tra virgolette, duri nel loro gioco e quindi era una partita che facilmente poteva infiammarsi. I nostri giocatori sono stati anche maturi in questo, tra virgolette, non cadere in tentazioni e nervosismo e quindi l'abbiamo chiusa con un rotondo 3-0, siamo davvero contentissimi. A quattro giornate dalla fine il Casoria consolida il secondo posto, sappiamo che il primo posto è sempre più difficile, è comunque difficile, resta difficile, però è importante anche consolidare il secondo posto e la famosa differenza punti con la quinta che può diventare importante per evitare la semifinale dei pre-off. Sì, senza impenagarci in questo discorso di, tra virgolette, di regolamento, di punti, io so solo che abbiamo quattro partite e dobbiamo fare 12 punti, quindi questo è il nostro obiettivo, un obiettivo che è nelle nostre possibilità, un obiettivo che la nostra squadra ci tiene e quindi ci conto. Anche la prossima partita con la Cerrana, che sarà tra virgolette un big match, secondo me è una partita che tranquillamente possiamo, se giochiamo come giochiamo, come sappiamo giocare, è una partita che tranquillamente possiamo vincere ad occhi chiusi. Quindi quattro partite e 12 punti, questo è il nostro auspicio, poi si vedrà. Infatti mi ha anticipato proprio per la partita di domenica che ricordiamo si dovrebbe giocare alle 16.30. Alle 16.30, sì, attendiamo l'orario federale, la decisione della federazione. In ogni caso so che a qualsiasi orario, a qualsiasi giorno ci sarà una cornice di pubblico non indifferente, il nostro magnifico pubblico. Anche oggi. Ancora una volta mi ha anticipato, volevo ringraziare perché era con una presenza massiccia qui a fuoricrutta, tra virgolette dove andiamo andiamo, sembra di giocare in casa. Non posso che ringraziarli e non posso che augurarmi per loro e per noi la promozione, perché questo è il nostro obiettivo.